Devrim di Finizio, responsabile della Business Unit Digital per l'Italia di Itachi Vantara. In che modo l'IoT ha ottimizzato le migliori pratiche circa i Big Data Analytics? Sicuramente è una cartina tornasola e molto importante, proprio perché le peculiarità dei progetti di IoT comportano tutte quelle che sono le pratiche tipiche dei Big Data, cioè i grandi volumi, la varietà delle informazioni e la velocità con cui queste informazioni vengono provvedute affinché vengano analizzate. Ecco, è strategico in questa fase essere in grado di offrire una visibilità end-to-end e di essere in grado di spostare l'analytics, incluse le advanced analytics, in tempi reali e anche all'inizio del processo, quindi in un'ottica di edge. Sicuramente l'avere a disposizione degli strumenti, delle capability che offrono una visione end-to-end non interrompono il ciclo del flusso delle informazioni, offrono questo tipo di velocità anche nella risposta che è strategica per questo tipo di applicazioni. L'altra cartina tornasola è l'adattabilità a un ecosistema Big Data che è sempre più variegato, sempre più ampio e innovativo con l'uscita di nuove tecnologie. Avere una piattaforma in grado di essere agnostica, in grado di essere ospitale, rispetto a tutte queste tecnologie, questi standard nuovi che arrivano, è fondamentale. In ultimo lo scalare, quindi avere dei processi, delle capability che vanno oltre quello che è il discorso di fare una sperimentazione, un pilota, ma essere in grado di scalare sui massimi livelli perché stiamo parlando di apparecchiature, fabbriche o device che generano diversi flussi di informazioni contemporaneamente e quindi l'importanza di avere un'architettura scalabile e performante e strategica per la riuscita. Tutti i progetti di IoT Analytics hanno bisogno di queste caratteristiche fondamentali che non sono nient'altro che la messa a terra delle implementazioni delle strategie di Big Data. Quali sono i vettori abilitanti della trasformazione digitale? In realtà è la digital transformation che è il driver per lo sviluppo e per l'innovazione, che è questione imprescindibile. Ci sono delle statistiche che parlano di darwinismo delle aziende. Oggi le aziende che sono nel Fortune 500 o il 75 di queste probabilmente fra pochi anni non saranno più nelle stesse per via della disruption in questo business. Noi siamo Itachi Vantara, la Data Solution Company di Itachi. Itachi è il settantesimo gruppo all'interno di questa classifica di Global Fortune 500 e ovviamente non vogliamo fare la fine di quel 75%. Stiamo trasformando digitalmente tutto il nostro business e il centro è il dato. Quindi quando parliamo di digital transformation noi parliamo di data driven digital transformation. Il dato è il sole attorno a cui tutta l'azienda, tutti i processi, tutte le relazioni con le persone devono ruotare. Attraverso questo asset strategico è possibile come sempre ma più di sempre parlare di supporto alle strategie, alle decisioni strategiche ma soprattutto creare efficienza ed eccellenza operativa. Attraverso l'analisi del dato, attraverso l'automazione, attraverso il machine learning, attraverso l'intelligenza artificiale è possibile creare questa efficienza operativa che ci permetterà di essere eccellenti sul mercato e di quindi di sopravvivere all'interno di questo darwinismo. I taci da questo punto di vista ci crede molto, ha sviluppato al proprio interno per le proprie aziende, le consorelle del gruppo queste soluzioni digitali e le sta portando provate sul campo, su noi stessi, al proprio mercato, ai propri clienti, creando grande valore nell'ottica della filosofia di social innovation che ci connota e ci porta avanti.